Ringrazio Sua Eccellenza per questo invito, Don Alessandro, Don Raffaele e ringrazio voi tutti che mi edificate con la vostra presenza e con questo bellissimo cammino che state facendo insieme. Siamo in un tempo davvero particolare, la storia che stiamo vivendo ci spinge a chiederci ogni giorno che cosa lo Spirito Santo dice alla sua Chiesa attraverso anche questa pandemia, questo tempo così travagliato. La vita spirituale di cui noi battezzati, presbiteri, laici, consacrati, tutti insieme dovremmo essere profondamente esperti in grado di aiutarci a leggere la parola nascosta dentro agli eventi della storia, perché la parola è evento, si è fatta evento, però spesso al pari del mondo noi siamo maestri di tante abilità che ci permettono di interpretare l'aspetto del cielo ma non i segni dei tempi, come diceva prima sua eccellenza. Quando al capitolo 16 di Matteo i farisei e i sadducei si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova gli chiedono un segno dal cielo e Gesù prontamente risponde loro con i detti che poi sono diventati anche detti popolari, rosso di sera del tempo si spera, rosso di mattina ma il tempo si avvicina. Voi queste cose le capite bene, sapete interpretare l'aspetto del cielo, Matteo 16,3, e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. E fa capolino questo profeta reticente, ribelle, non certo il profeta più riuscito delle scritture. Il segno di Giona. Sappiamo fare la meteorologia ma non sappiamo fare più teologia. Ci manca la chiave per leggere la storia e la chiave di lettura per leggere la storia per noi battezzati, per noi redenti, è Cristo, il crocifisso risorto. Il segno che Gesù dà alla sua generazione è il segno di Giona, che è un segno pasquale. È il crocifisso risorto la chiave di lettura di tutti gli eventi della storia. È la storia, il compimento della storia. Solo con lui ogni evento della storia può superare, andare al di là dei confini della morte. Il crocifisso risorto è la nostra comprensione, è la manifestazione piena della verità, che è, come dice il greco, alezeia, cioè svelamento, qualcosa che viene fuori dal nascondimento, che appare, si manifesta, si svela. Infatti dalla sua umanità offesa, ferita, emerge che cosa? Emerge il volto amorevole, tenerissimo del padre. Emerge una grande verità per noi, per ogni uomo, per ogni donna, che in lui, nel figlio amato del padre, possiamo essere chiamati figlio, figlia. È proprio questo che siamo invitati a scorgere in questa ferita del nostro tempo, nella ferita di questo particolare tempo storico, a scorgere la verità della nostra figliolanza. Come dice l'Apostolo. Vedete quale grande amore ci ha dato il padre per essere chiamati figli di Dio? E lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Siamo figli destinati ad essere, a vedere Dio, a essere simili a lui. Allora, per poter leggere questo tempo particolare, un piano, diciamo, della storia mondiale e sul piano ecclesiale, che poi sono la stessa storia, per poterlo leggere senza soccombere, senza fare pessimismi cosmici, senza mormorazione, lamentazione, ma piuttosto come tempo che ci provoca fortemente e diventa per noi uno slancio al rinnovamento, alla conversione, al cambiamento della mentalità, dobbiamo innanzitutto ricordarci che noi credenti la tomba non ce l'abbiamo davanti, ma l'abbiamo già lasciata, siamo già tutti usciti dalla tomba. Noi siamo morti con il battesimo e siamo stati estratti dalla morte e immessi con forza in una vita nuova, nella vita di Cristo, perché il sangue di Cristo è stato trasfuso in noi, ma è davvero nuova la nostra vita, è davvero una vita in cui appunto accogliamo l'amore del Padre che si è manifestato in Cristo e lasciamo circolare questo amore in mezzo a noi. nessuno si perda d'animo, diceva il piccolo Davide al re Saul quando questo re cominciava a tremare davanti ai filistei che facevano sul serio e avevano un eroe, Golia, che terrorizzava tutti. Aveva sfidato le schiere del Dio vivente. Golia, il filisteo, il potente, l'uomo che faceva paura. Eppure un ragazzino, uno che era poco più che un ragazzino, un ar, cioè uno inesperto che non ancora sapeva distinguere il bene dal male, questo ragazzino dice al re non cada il cuore. nessuno si perda d'animo. L'ebraico suona così, non cada il cuore dell'uomo sopra di lui. Che è proprio quello che in qualche modo diciamo sempre, ascoltiamo quando partecipiamo alla divina liturgia. Sentiamo il sacerdote che ci dice in alto i nostri cuori. Noi diciamo sono rivolti al Signore perché tendiamo tutta la nostra esistenza, tutta la nostra vita, la nostra persona verso di lui proprio per non soccombere, proprio per non cadere, proprio per non deprimerci di fronte alle prove, alle lotte, ai guai della vita. E Davide annuncia questo con forza. Non si perda d'animo nessuno, non cada il cuore. Perché? E perché sarà vero che questo Golia ha tanta forza, una forza sovrumana, no? La descrizione che fa l'autore della prima Samuele è impressionante, viene descritto proprio come un gigante che terrorizza. Come davanti a noi abbiamo tanti giganti che ci terrorizzano. La pandemia, tanti pericoli legati alle problematiche ambientali, abbiamo questo fondamentalismo che terrorizza il mondo intero. Abbiamo tanti Golia davanti a noi. Ma c'è bisogno di qualche Davide in più nella storia, no? Qualcuno che sia forte di che cosa? Della propria perizia umana, l'esperienza che questo giovane pastore ha acquisito pascolando il gregge, custodendo, uno dei verbi che prima ci ha consegnato, Sua Eccellenza, custodendo il gregge. Beh, quando arrivava il lupo, l'orso, no? Scusate, l'orso, il leone, questo ragazzino difendeva le sue bestiole, il suo gregge. E poi ha una piccola arma, questa fionda. E poi è un pastore, ma anche un liturgo, un cantore, un musicista, Davide. Quindi ha la fionda, ma anche la cetra. E poi ha l'arma che vince il mondo, dice sempre l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera, la fede. L'esperienza, la capacità di difendere il gregge con l'esperienza che ha maturato, quindi la sua velocità e leggerezza nel saper colpire l'avversario e poi la fede nel Dio vivente, in quel Dio che non abbandona mai i suoi fedeli. Queste sono le due armi di questo ragazzino e con queste due armi annienta il gigante che terrorizzava l'intero popolo, l'intero esercito di Israele, le schiere del Dio vivente. Che cosa ci aiuta a non far cadere il cuore di fronte ai giganti di questo momento? Ce lo ricordava Gesù domenica scorsa. Che cosa ci dà vita? Che cosa ci comunica la vita? Le mie parole sono spirito e sono vita. La parola di Dio è vita che ci rialza, che non fa cadere il nostro cuore, che lo solleva. Come aveva già compreso il popolo di Dio, Salmo 119,50. La tua parola mi fa vivere. E ancora la tradizione, l'insegnamento ebraico post-biblico nel Talmud babilonese abbiamo un bellissimo trattato, il trattato Berakot, nelle Benedizioni, dove abbiamo un passaggio bellissimo che si chiama Con amore eterno. Con amore eterno hai amato la casa di Israele e tuo popolo. Ci hai insegnato la Torah, i precetti, gli statuti e le costituzioni. Perciò, Signore Dio nostro, concedi che quando ci corichiamo e quando ci alziamo, ecco dello Shema Israel, meditiamo sui precetti della tua volontà e fa che ci rallegriamo e gioiamo in eterno nelle parole dell'insegnamento della tua Torah, perché essi sono la nostra vita e longevità. Vita e longevità. Vita lunga, vita piena, perché nella Bibbia la vecchiaia non è mai vecchiaia, è essere sazio di giorni. Quindi questa seconda benedizione del Talmud babilonese, che recita il ringraziamento per il dono della parola di Dio, ci rimanda a questa esperienza, potremmo dire, di legame stretto tra la parola e la relazione di alleanza con Dio. Questa espressione con amore eterno che apre la benedizione, è estrapolata da una delle pagine più belle di Geremia, Geremia 31.3, che rivela proprio la qualità della relazione di Dio all'uomo. Dio si lega a noi con un amore che è per sempre, eterno, inossidabile. E questa Torah che Dio trasmette al suo popolo, che consegna e che nella rilettura postesilica viene considerata proprio il dono di nozze dello sposo alla sua sposa Israele, la Torah è il dono dello sposo alla sua sposa, non è una realtà che ha un contenuto intellettuale e basta, ma è appunto una realtà dinamica che comunica gioia, vita, longevità. Questa parola è una parola che ha il potere di far vivere l'uomo, ma di custodirlo in vita, di restituire la vita e di custodire la vita, per spingere la creatura umana a crescere verso la sua piena fioritura, il suo pieno compimento. E come abbiamo già ascoltato dall'intervento, dalla relazione di Don Alessandro, ecco che questa parola che è stata così centrale nell'esperienza di Israele dopo l'esilio, quando non c'era più il Tempio, non c'era il culto, non c'erano i sacrifici, in terra straniera, in terra di esilio, che cosa? A cosa Israele si è aggrappato, questo popolo si è aggrappato? Alla parola, alla parola del Signore, che è stata la sorgente, la fonte a cui attingere per non far cadere il cuore, perché come dice il Salmo, arrivati in questa terra d'esilio, qual è stato l'effetto? Appendere la cetra ai salici di quella terra. Il salice è proprio questa pianta depressa, che più depressa non si può, e la cetra invece è lo strumento che dice la gioia del celebrare, del cantare le lodi del Signore, quindi dalla gioia alla tristezza. Perché? Perché siamo fuori dalla terra, la terra che il Signore ci ha promesso, e perdere la terra è un dramma, perché significa che non abbiamo ascoltato, non abbiamo custodito, non abbiamo vissuto, non abbiamo trasmesso i quattro verbi che prima ci consegnava Sua Eccellenza. C'è stato un blackout, una disconnessione dalla relazione con Dio. E quindi dove sono finite le promesse di Dio? Dove è finita tutta quella tenerezza, no? Che emerge un grido del popolo? Vedi Isaia 63, quando il popolo grida a Dio, tu sei nostro padre. Abramo e Israele non ci conoscono più, hanno l'amnesia, hanno l'Alzheimer, non ci riconoscono più, e tu non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro padre. Padre dirà il Nuovo Testamento che sei nei cieli, non per fare riferimento al luogo fisico dove abita Dio, per dire che Dio abita in un superattico nei cieli, no? Ma per dire che Dio è padre in modo eminente, superlativo, diversamente da come si è padre i terreni. Per quanto qualcuno di noi possa avere un'esperienza positiva del suo papà, e ci auguriamo che siano in molti in mezzo a noi, c'è sempre una sbavatura, un limite, un'imperfezione, una ferita. Mentre questa espressione con cui la scrittura ci consegna la verità di Dio, vuol dire che Dio è padre in modo squisito, straordinario, e lui non c'è difetto. E questa esperienza di Israele, che perde il Tempio, che perde la possibilità di offrire i sacrifici, di celebrare il culto, appunto permette a Israele di vivere un'esperienza davvero spirituale, a spiritualizzare il culto, cioè a fare della propria vita un culto, a fare della propria persona, come poi dirà Paolo in Romani 12, 1, 2. Offrite i vostri corpi come sacrificio, come logichella treian, cioè come culto secondo il logos, per vivere in modo filiale, alla maniera di Cristo. Un corpo mi hai offerto, dice il verbo entrando nel mondo, dirà l'autore della lettera agli ebrei. Quindi Israele ha vissuto la centralità della parola di Dio e questa centralità, come prima appunto ci diceva Don Alessandro, con gli impulsi, tutti gli stimoli del Vaticano II, soprattutto del gioiello, della Dei Verbum e poi la ripresa di alcune figure davvero profetiche nella Chiesa, questa parola, piano piano, è ritornata a prendere il suo spazio e abbiamo ancora molto da fare, perché nella pandemia, quando non avevamo la possibilità di celebrare la divina liturgia, avremmo potuto approfittare, forse alcuni hanno approfittato, qualcuno di meno, avremmo potuto approfittare davvero di questa ricchezza della parola e sentirne la sacra mentalità. Ma mi fermo qui perché Ubi Maior Minor Cessat, quindi fratello Enzo Bianchi parlerà, ci insegnerà al riguardo. E arriviamo a questa splendida pagina che abbiamo letto tante volte, quindi quando siamo davanti a una pagina biblica che conosciamo a memoria, dobbiamo sempre lanciare un po' una sfida alla parola, no? Provare a scardinare tutte le stratificazioni del lo so già che si sono formate dentro di noi, quindi detergere un po' i vari strati e arrivare, no? Alla freschezza di una parola che è fresca di giornata, che vuole essere sempre nuova e quindi come tanti maestri prima di noi provare sempre a rileggere il testo biblico, in questo caso l'incontro del risorto con i due di Emmaus, in modo da farlo nostro creando un set cinematografico nella nostra mente, mettendo in scena, no? Questo brano, dando corpo alle figure, ai personaggi, al dinamismo che c'è nel testo. Perché appunto possiamo leggerlo con concretezza ma soprattutto perché ci lasciamo leggere dalla scrittura, perché questo accade quando noi apriamo la Bibbia. Non siamo noi a leggere la parola, ma è la parola a leggere la nostra vita e questo dovrebbe essere sempre la nostra esperienza, sentirci letti da una parola che accende luci di senso e che rinfocola la nostra fede e che ci attira ancora di più al Signore e ci attira di più verso gli altri. Questo brano ci consegna tante perle. Innanzitutto ci consegna la verità della vita come un viaggio, come un camminare. Se prendete il testo in italiano e chi conosce qualche altra lingua, possibilmente il greco, potete vedere la ricchezza che c'è nel testo di Luca 24, 13 e 35. Innanzitutto tantissimi verbi e sostantivi che dicono il camminare, il cammino, la strada, l'andare, l'entrare, il lungo la via. Dall'inizio alla fine abbiamo, tutto il testo è attraversato da questo dinamismo. Il verbo poreuo mai, si un poreuo, peripateo, abbiamo eserco mai, anistemi che nella scrittura ha questo duplice senso dell'alzarsi come movimento ma anche del risorgere, anastasis, la risurrezione di Cristo. Epistrefo che è un verbo di movimento ma anche ricorda un dinamismo interiore, di un movimento interiore, è quello di una conversione e poi questa espressione che ritorna è in te o do, per strada, lungo la strada. Quindi la vita viene presentata da questo brano come un viaggio, come un andare, siamo dei pellegrini, la nostra vita è una vita itinerante. Questa immagine della vita umana come pellegrinaggio diventa corposa attraverso l'immagine di questi due discepoli che, come tutti i personaggi che la Bibbia ci consegna, più che essere dei modelli, potremmo dire sono vite in evoluzione, in fire, in dinamismo. Investite in un pellegrinaggio che può essere percorso in modo spento oppure dinamico, a seconda della compagnia e della meta. Nella scrittura la meta è essenziale, per esempio pensiamo alla storia di due giovani, abbiamo Tobia e abbiamo il figlio il prodigo. Tutti e due fanno un esodo dalla loro casa, ma Tobia ha un fiorfiore d'accompagnatore e una meta ben precisa, mentre il figlio il prodigo ha soltanto dei mezzi, l'usia che il papà gli ha dato e non ha una meta, non ha una missione e quindi tutto ciò che ha raccolto lo disperde. Mentre chi ha la meta e ha una missione chiara non disperde ma cresce, fiorisce, avanza e fa avanzare con lui la storia, la storia della propria famiglia, la storia del proprio popolo, perché nella scrittura non abbiamo mai individui, abbiamo persone che fanno parte di una comunità, di un popolo, sono tessute in una trama fitta di relazioni. La storia della persona è una storia di chi appartiene a un popolo e la missione personale è legata sempre alla vicenda di un popolo e se Dio interviene nella vita di qualcuno e sceglie qualcuno e perché sia un canale, un tramite, un mediatore di beni, di salvezza, di vita per tutto il popolo. Quindi questi due pellegrini che incontriamo sono in viaggio verso una meta o meglio prendono le distanze da quella che nel Vangelo di Luca è la meta, Gerusalemme. Tutto il percorso di Gesù è un salire verso Gerusalemme a partire dal capitolo 9, quando Gesù appunto fa dura la sua faccia e va verso il suo destino che si compirà a Gerusalemme. Però il viaggio di questi due personaggi è un viaggio drammatico perché vanno nella direzione opposta, partono da Gerusalemme, città che è presente nel brano per ben tre volte, nella mentalità semita per dire il superlativo si ripete qualcosa tre volte. Santo, santo, santo per dire più santo che più santo non si può. Quindi Gerusalemme per tre volte. La centralità di questa che sarà il luogo, di quello che sarà il centro di radiazione della parola, della corsa del Vangelo nel secondo volume di Luca, negli Atti degli Apostoli. dopo aver smarrito l'entusiasmo che aveva caratterizzato il loro cammino di discepoli che erano stati alla scuola di Gesù, avevano accolto la parola di Gesù, avevano seguito Gesù, dopo aver smarrito quell'entusiasmo a causa degli eventi tristi che si erano compiuti a Gerusalemme, ecco che questi due decidono di lasciarsi alle spalle la città santa, di dimenticare il cammino fatto fino a quel momento, di tornare indietro, di fare una sorta di regresso, riabbracciare la vita di un tempo. Questo è un po' caratteristico nel Vangelo, anche nel Vangelo di Giovanni lo troviamo. Nel capitolo 21 Pietro e altri stanno a pescare, quando Gesù li aveva estratti dalle reti, un regresso alla vita di un tempo, alla vita delle proprie sicurezze, a quello che so fare bene, che mi riesce bene, ma con il cuore gonfio di tristezza e il passo si fa lento, pesante. Ce lo dice bene l'Evangelista perché dice al versetto 17 che questi due si fermarono col volto triste, quindi si intraprende un viaggio e poi ci si ferma. È quasi un viaggio che cade nel vuoto, che si interrompe troppo in fretta, un aborto del proprio bellegrinaggio. In questo viaggio appunto la battuta d'arresto però è accompagnata ad un incontro. I due, che dice Luca, erano due di quelli, due di loro. Quindi si apre subito il tema di un'appartenenza. Erano due che erano stati a stretto contatto con Gesù, erano due, potremmo dire, privilegiati o come diceva il Cardinale Martini, due super coltivati da Gesù, no? Come accade tante volte, abbiamo delle persone a cui cerchiamo di dare nella nostra vita il meglio. Condividiamo il tempo, insegniamo e poi può accadere che quelle persone più coltivate vadano via, mentre le persone proprio aride, selvatiche, prendano invece una goccia e fioriscano di colpo. Mistero. Questi erano appunto due della squadra, del team, due coltivati da Gesù, non dei discepoli occasionali. E questi due appunto intraprendono questo viaggio di ritorno a casa, si separano dal luogo dove si è compiuta la vicenda di Gesù e conversano tra di loro. Dopo il campo semantico del cammino, del movimento, abbiamo il campo semantico del parlare, dire, spiegare, molto massiccio, molto presente in tutta la pericopa evangelica. Conversavano tra di loro, discutevano insieme quando Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. La vita come viaggio, la vita come racconto, perché non basta vivere, ma bisogna imparare a raccontare la propria vita, rileggendo la propria vita in modo sapienziale. E Luca, lo dice sin dall'inizio del suo Vangelo, vuole fare una diegesis, cioè un resoconto ordinato di tutti gli eventi relativi alla vicenda di Cristo. E appunto questo incontro con un pellegrino, un forestiero che va al loro incontro, dà loro l'occasione di rileggere gli eventi, riflettere su quello che hanno vissuto. Tante volte noi viviamo degli eventi ma non ci fermiamo mai a rileggerli. L'esame serale di coscienza dovrebbe servirci anche a fare sintesi della nostra giornata, riavvolgere il nastro imparando gradualmente a togliere tutto ciò che è in consistenza dalla nostra giornata, separare ciò che è vile, inconsistente di quello che abbiamo vissuto da ciò che invece è solido, consistente, prezioso, di modo che ciò che è inconsistente ce ne sbarazziamo e ciò che è prezioso viene tesorizzato nello scrigno del cuore, che permette appunto al nostro cuore di impregnarsi di ciò che vale, di ciò che ha valore e che può mantenerci in vita. Quindi incontrano questo... Luca ci dice Gesù in persona ma loro non lo riconoscono perché al versetto 16 si dice che i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Terzo campo semantico, vedere, riconoscere, apparire qualcosa, l'esperienza di ciò che appunto tocca la vista, gli occhi, il piano degli occhi. I loro occhi erano impediti, non potevano riconoscerlo ci dice Luca. Quindi noi lettori siamo onniscienti come il narratore, sappiamo tutta la vicenda mentre i protagonisti della storia non lo sanno. Vedono qualcuno a cui non riescono a dare un'identità. Ma di fronte alla domanda di quest'uomo che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino, appunto la reazione è il fermarsi col volto triste. Interessante questa tristezza che parla chiaramente di un cammino di devocazione. Erano stati chiamati a Gerusalemme, adesso se ne vanno da Gerusalemme, quindi c'è questo percorso di devocazione. E la loro tristezza che viene messa in evidenza dall'incontro con questa terza persona che si avvicina a loro. Interessante anche questo verbo che poi riappare al versetto 28, avvicinarsi. Questa complicazione dell'apparizione del terzo personaggio spinge i due appunto a rivelare cosa c'è nel loro cuore, perché la bocca parla per l'abbondanza del cuore, loro stanno conversando, ma le nostre parole sono epifania dei nostri sentimenti, come gli occhi sono lo specchio di quella che è la nostra interiorità. In ebraico occhio è Ein, fonte, sorgente. È Gesù stesso che dice lampada del corpo e l'occhio, se il tuo occhio è nella luce, tutto il corpo è nella luce. Tristi, una faccia potremmo dire da funerale, direbbe Papa Francesco, le facce tristi di cui parla anche Gesù nel capitolo 6 di Matteo, quando rimprovera chi digiunando assume questo volto da funerale per essere elogiato e incensato dagli altri per il suo digiuno. La domanda quindi innesca una reazione. Si fermarono col volto triste, uno di loro di nome Cleopa gli rispose, solo tu sei forestiero, parroiches, parola che attinenza con una parola a noi molto cara, parroco. Solo tu sei così forestiero, quindi parroco vuol dire forestiero, un pellegrino, un itinerante, uno che non ha fissa dimora, uno dinamico, in movimento. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? E Gesù, come dire, dispiega una splendida pedagogia, la sua tattica Gesù, appunto gli spiega questa tattica che consiste appunto nel fare un po' l'ignorante, nel stare al gioco, interpretare questa fiction di colui che non sa. Parliamo di Gesù che si avvicina ai suoi discepoli, è il maestro, è il crocifisso risorto, è il Vangelo ed è anche l'Evangelizzatore, ma è soprattutto, come si vede bene nel Vangelo di Matteo, l'Emmanuele, il Dio con loro, il Dio che cammina con, come si vede in tutta la scrittura. Di fronte alla chiamata divina, l'essere umano, uomo, donna, percepisce il proprio décalage, la propria inadeguatezza, la propria sproporzione e subito alla sua obiezione. Sono giovane, non so parlare, com'è possibile? Ciascuno di noi ha la sua obiezione davanti al disegno di Dio per noi. E la risposta di Dio? Non temere, io con te. E questa autorivelazione divina diventa confessione di fede del popolo ebraico e di noi cristiani. Anche se vado nella valle dell'ombra della morte, anche se passo lì nel buio, anche se c'è il blackout totale, io non temo chi a tai ma di, perché tu con me, io con te, tu con me. Questa è l'alleanza. Dio si presenta come il compagno eterno, l'eterno alleato e noi rispondiamo con questa reciprocità, provando a contraccambiare il nostro modo così fragile e piccolo, a contraccambiare questa alleanza. Come farà Maria? Che quando si autoproclama serva del Signore non si sta, come dire, svalutando, ma si sta proclamando alleata del Dio altissimo, come tutti i missionari della scrittura, come tutti gli inviati. È un titolo onorifico, servo del Signore. Davide è servo del Signore, Abramo era servo del Signore, Daniele è servo del Signore. E poi quella figura straordinaria che troviamo in quattro canti nel libro di Isaia, l'Eved Adonai, il servo del Signore, che fa le veci di Dio, è inviato da Dio, amato da Dio, che deve centrare il bersaglio per Dio. Il servo del Signore è il suo alleato, colui che vive l'amore e contraccambia l'amore di Dio. Ecco il Dio con loro, l'Emmanuele, colui che cammina con, sempre ha camminato, è sempre stato un Dio itinerante, il Dio in uscita, per questo la Chiesa è in uscita, non perché perde tempo o va errando, ma perché riflette la natura stessa, il dinamismo stesso di Dio, che si fa compagno di viaggio di ogni uomo e di ogni donna nella storia. Ed ecco questa pedagogia che il risorto dispiega per aiutarli, non solo a riconoscerlo, ma soprattutto ad estrarre il dolore che hanno dentro, la depressione che covano nel cuore, perché quel dire loro che cosa spinge, innesca nei discepoli appunto il desiderio di raccontarsi, perché tutti vogliamo raccontarci nella vita. C'è un racconto straordinario di Anton Chekhov, che parla di un fattorino di piazza, un taxi antelitteram, che aveva perso il figlio, gli era morto il figlio, e quando sale qualcuno sulla sua carrozza, sul suo carro, prova a raccontare il dolore che vive, ma tutti lo stoppano, perché non vogliono sentire il dolore. E lui alla fine disperato parlerà con il suo asino, mentre gli dà la paglia e dice, ah se ci fosse mio figlio lui ti avrebbe dato cose buone, sai perché non c'è più, e gli racconta, mentre l'asino si lascia accarezzare da lui, gli animali a volte più umani, come nelle favole, il dinamismo dell'umanizzazione. Raccontare il dolore per prendere in qualche modo requie dal dolore, quiete dal dolore, perché il dolore trattenuto dentro fa male, ammala la persona. E quindi noi siamo chiamati a raccontarci, abbiamo bisogno di raccontarci, abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolti, e Gesù si presenta così, come qualcuno che ascolta. Ed è interessante il racconto, la narrazione che fanno i due, Cleopa che fa, anche a nome dell'altro, c'è una storia che lui racconta, una storia che in qualche modo è una storia, come dire, corretta nella sua articolazione. Che cosa? Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità, lo hanno consegnato, fatto condonare a morte e crocifisso. Noi speravamo. Speravamo, quindi non speriamo più. Delusione. È subentrata la delusione. C'era un'attesa, quindi c'è tutto questo climax, e poi, boom, si cade. Delusione. Che egli fosse colui che avrebbe riscattato. Termine potente, Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Alcune delle donne, delle nostre, interessante, è Luca che scrive, Luca che nel capitolo ottavo, ai primi tre versetti, parla della novità del discepolato femminile al seguito di Gesù, ripreso nel capitolo decimo, con l'incontro con Marta e Maria, questa Maria che sta ai piedi di Gesù, trasgressione da parte della donna nella società ebraica, no? Tanto che anche Marta è scandalizzata dall'atteggiamento della sorella, ma Gesù ha chiamato al suo seguito le donne anche. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recati al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto una visione di angeli. Vedete? Andare, dire, vedere. Tornano questi verbi. I quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba. Le nostre, i nostri. E la comunità, c'è un senso di appartenenza. Loro si sentono parte di un corpo, però vedete, quasi per paradosso, si stanno separando da quel corpo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba, hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Stanno recitando il kerigma, il credo. Tante espressioni simili si troveranno nel capitolo 2, 3, 10 degli atti sulle labbra di San Pietro, al capitolo 13 degli atti sulle labbra di Paolo. Ma è un kerigma senza gioia, senza anima, depressivo, fatto con la faccia triste, la faccia del funerale. C'è un kerigma sulle labbra che però non è accordato al proprio cuore. Cosa che accade anche a noi. Questi due siamo noi. Ogni qualvolta ci troviamo davanti a una prova. Ogni qualvolta contempliamo delle ferite. Un kerigma a metà. Perché? Perché manca l'amen, l'amen, l'assenso, il dire è vero, non il dubbio, il sospetto. Dicono forse che è vivo. Sarà forse vivo? No, è vivo. Un kerigma senza anima, che ha un senso dubitativo quando manca di amen. Dubitativo e con il dubbio non si evangelizza nessuno. Non si insegna a nessuno col dubbio. Forse nella grammatica italiana si dice così. Quale insegnante può dire forse nella grammatica italiana si dice così? Gli studenti diranno non sei credibile. Ciao, ti ascolteremo un'altra volta. La Pasqua di Cristo è ingombrante e la croce è uno scandalo, come dice Paolo. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo. Lo scandalo nel pezzo di legno che serviva a interrompere la corsa degli animali per poterli braccare. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è dunamis, dinamite. Come dirà nella lettera ai Romani, 1,16, il Vangelo è dunamis, dinamite. Ma noi abbiamo paura del tritolo dell'Isis, ma non ci fa ancora battere il cuore il tritolo del Vangelo. La dinamite che c'è nella parola di Cristo, nella parola che è Cristo. La vita come incontro, presenza, riconoscimento. Ecco che a questo kerigma senza anima risponde lo straniero. E la prima reazione dello straniero è un ceffone sonoro, uno scossone al versetto 25. Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Stolti, senza nus, senza intelletto, privi di intelligenza spirituale, di occhio contemplativo e lenti di cuore. Interessante, bradius, che ci fa venire in mente l'era glaciale, il bradipo, no? Lento, perché deve passare inosservato, lento, perché si nutre di foglie questa creatura. E poiché le foglie, no? Se mantengono loro non mantengono nemmeno lui. Quelle poche calorie che prende dalle foglie se le deve tenere strette, strette, quindi va lento, 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 lenti a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Credere, la fede, è diversa dal sistema religioso, dalla cristallizzazione della religione che tu, nella quale tu devi fabbricare culti, sacrifici, offerte, autocastigazioni, flagellazioni. Credere è accogliere, lasciarsi fare, lasciarsi dinamizzare e cogliere l'unità della storia, della storia dell'alleanza che è un filo rosso, perché il tuo amore è eterno, l'abbiamo detto, l'inossidabilità dell'amore fedele e tenero di Dio che attraversa tutta la scrittura, che attraversa tutta la storia dell'alleanza, che attraversa tutta la nostra esistenza, dal primo all'ultimo nostro respiro. Credere è proprio tenere acceso il cuore sintonizzandolo sulle promesse di vita che Dio ha pronunciato su di noi. A partire dai profeti fino al figlio suo. E allora ecco l'altra reazione di Gesù, l'annuncio, versetto 26, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Entrare nella sua gloria non è più un luogo fisico, questo movimento, no? Ma entrare in una condizione. noi abbiamo visto la sua gloria e la Chiesa vive, come dice la lettera a Tito, tra la grazia della prima venuta e la gloria della seconda. Tra la grazia e la gloria, deve entrare nella gloria. Gli eventi che racconta Gesù sono gli stessi che hanno raccontato loro. Cosa cambia? La chiave ermeneutica. La vita è piena di imprevisti e appare a ogni angolo la prova. La coppa della vita contiene sempre gioia e dolore. Non siamo mai così nella gioia da non avere un dolore e così nel dolore da non contemplare una gioia. Insieme, in questo calice che è la nostra vita, vanno insieme. Ma di fronte alla prova sempre appunto lo stesso grido. Dov'è Dio? Perché ti nascondi, Signore? Fino a quando? Dov'è la tua onnipotenza? Ma Dio non si è rivelato innanzitutto onnipotente. L'abbiamo detto prima. Non ha detto io sono l'onnipotente. Io con te, l'onnipresente, l'eterno compagno di viaggio, che è diverso. E Gesù aveva educato i suoi discepoli così. Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E poi aveva dato gli annunci della passione, tanto che il povero Simon Pietro, che aveva tirato fuori la risposta da primo della classe, era stato subito annichilito dietro, Satana. Tu che non pensi secondo il disegno di Dio, ma secondo la mentalità del mondo, secondo la carne che deve difendere. Tu vuoi difendere la vita, ma la devi perdere. La terza reazione di Gesù è l'ermeneutica, appunto l'interpretazione. Quindi lo scussone, l'annuncio, l'evangelizzazione e l'interpretazione. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, versetto 27, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Interessante il verbo di ermeneusen, cioè fece l'ermeneuta delle scritture, tutte relative a lui. Lui sta, le scritture sono impregnate di lui. Sotto le scritture è, appunto, si trova Cristo. E riporta così Gesù tutto al disegno originario del padre. Tutto è nelle mani del padre, la vita e la morte, la vita e la morte del figlio per la nostra salvezza. La storia della salvezza è costellata di prove. Abramo, la storia di Abramo è segnata dalla prova e non è il sacrificio di sacco. Parliamo della che dà la legatura di sacco. La prova è di Abramo, che deve imparare ad essere padre. Non perché ha puntato i piedi e ha detto signore voglio essere padre. Come la donna e Eva, dal verbo aia, essere, la madre di tutti i viventi, ma non è la fonte della vita. Infatti tutte le matriarche sono sterili. La vita si ottiene da Dio e noi diventiamo mediatori di vita. Non siamo i detentori della vita. Non ci diamo la vita da noi stessi come non ci diamo la fede da noi stessi. Per questo la Bibbia è attraversata dalle genealogie che ci fanno un po' sonnecchiare ma sono importanti. Tizio genero caio, caio genero sempronio. Dio fa scorrere la vita nella storia e facendo passare la vita fa passare la fede. Di padre in figlio, di generazione in generazione scorre attraverso la vita, la trasmissione della fede scorre la sua misericordia, canterà Maria. Che non canta partiture inedite, no? Mattesse, da poetessa profetessa qual è? Le perle della storia biblica, dei canteci biblici, per rileggere la storia di Dio nell'unità. Lei che tesse la carne del figlio di Dio tesse la storia che il peccato umano disperde, manda in frantumi e lei la ritesse, la ricuce con questa abilità di chi appunto vede l'invisibile, contempla la visione all'occhio penetrante contemplativo di Dio degli uomini della storia. La storia della salvezza è piena di prove, è tutta segnata dalla Pasqua. Abramo, Mosè, i profeti, tutti uomini provati, saggiati, il Cristo che appunto si trasfigura in mezzo a chi sta. Mosè e i profeti, e non sono la legge, Mosè scusate ed Elia, e non è diciamo il trittico Cristo tra la legge e i profeti. No, Cristo tra due uomini sofferenti. Mosè ha sofferto, è come se non ha sofferto. Ma l'ho generato io questo, l'ho concepito io questo popolo, deve urlare Mosè, che non ne può più di questo popolo, che ha sempre qualcosa da ridire. L'ho forse concepito io e lui lo deve portare in grembo, nelle doglie del parto, e deve portarlo alle soglie della terra. Lui non entrerà, uomo sofferente. Ed Elia, uomo sofferente, soffre perché vede un popolo che sta un po' di qui e un po' di lì. Ma fino a quando saltellerete di qui e di lì? Un po' a ballo, un po' a donai, in base a come ci conviene. Soffre. E poi dopo il sacrificio del Monte Carmelo soffre perché è perseguitato dalla regina Gezabele e fa la sua depressione per incontrare Dio, che si manifesta in un modo sempre nuovo. La storia è piena di sofferenze, è piena di persone che però hanno sentito che Dio non salva dalla prova, ma nella prova, nella prova ci viene a salvare. E si sono fidati di Dio. Pensiamo al capitolo 11, un gioiello della lettera agli ebrei. La fede che dice l'autore agli ebrei, elencos, prova di ciò che non si vede, è fondamento, gli upostasis di ciò che speriamo. Speravamo e non sperano più perché non hanno fede, non credono alle parole dei profeti, alla scrittura. Per fede quegli uomini e quelle donne hanno camminato e sono andate oltre la prova, oltre il dolore. Nella fede, ebrei 11, 13 a 16, nella fede morirono tutti costoro senza aver ottenuto le promesse. Ma li videro, li salutarono da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. La prova ti spinge a tornare indietro. Invece questi uomini e queste donne hanno aspirato ad un'altra patria migliore, quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Pensiamo alla visione dell'Apocalisse. Sarà il loro Dio, essi saranno il loro popolo. Ha preparato infatti per loro una città, la Gerusalemme celeste, che scende, adorna come una sposa per il suo sposo. Manca a questi due discepoli l'intelligenza spirituale, quell'intelligenza teologica che allarga lo sguardo e fa cogliere l'unità della storia. E allora per questo Gesù si fa evangelizzatore, didascalos, ermeneuta, lui che è il padre. Del padre ci ha fatto l'esegesi, exegesato, Giovanni 1,18, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Fallesegeta, che mostra l'unità della storia della salvezza. La Pasqua attraversa tutta la storia dell'alleanza, da Abramo a Cristo. Quindi non basta leggere, non basta vivere, non basta vedere, bisogna comprendere. C'è bisogno di un'ermeneutica della parola, un'ermeneutica dell'esistenza, l'ermeneutica dell'immagine. Nemia al capitolo 8, vediamo questo, quando Esdra apre il libro, sono rientrati nella terra ma non hanno il Tempio. E allora che cosa hanno? Hanno il libro, la parola del Signore. Lui apre questo libro sta più in alto di tutti, il punto più in alto. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Vedete? Il movimento della parola innesca il movimento del popolo, dell'Assemblea. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, tutto il popolo rispose, Amen, Amen. Credo. È il proprio assenso a quella parola. Alzando le mani, si incerchiarono, si prostrarono con la faccia a terra. Giosuè, è tutta la sfilza di persone che sta con lui, i leviti spiegavano la legge al popolo, il popolo stava in piedi. Leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti, spiegavano il senso e facevano comprendere la lettura, l'omelia come ermeneutica della parola. Nemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriva, i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo, questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non fate lutto e non piangete. Ecco cosa innesca la parola, la gioia. Tutto il popolo piangeva, i guai erano stati tanti, mentre ascoltava le parole della legge. Nemia disse loro, andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci, mandate porzioni a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza, ed è rimasta questo nel saluto. I leviti calmavano tutto il popolo dicendo, tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a mangiare, bere, eccetera, a esultare con grande gioia perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Far comprendere le parole proclamate, questo è il compito della Chiesa, questo è il compito dei battezzati, spiegare la scrittura, fare l'ermeneutica della scrittura, imparare l'ermeneutica delle immagini, imparare di ciò che si vede, di ciò che si vive, di ciò che si legge. Non basta conoscere un evento, bisogna interpretarlo. Come si vede in Atti 8, no? Nel ministero di Filippo, questo uomo docile allo Spirito Santo che incontra uno straniero, uno che non appartiene al popolo dell'alleanza, un etiope, funzionario della regina Candace, che era stato in pellegrinaggio a Gerusalemme, leggeva il rotolo delle scritture, quarto canto del servo, il servo sofferente. Capisci quello che stai leggendo? E questo uomo cosa dice? E come potrei capire se nessuno, qui il verbo potente, odegheo, mi indica la via, la strada? Abbiamo l'immagine di nostra signora Odigitria, Maria Odigitria, colei che indica la strada che tiene il bambino tra le braccia e indica il bambino, l'Odigitria, lei indica colui che ha detto io sono la via. Come posso io capire se nessuno mi indica la strada, se nessuno me lo spiega? Filippo prendendo la parola, Atti 8.35, partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù, annunciò a lui Gesù. Il greco è più forte, aprendo la bocca, devi aprire la bocca per spiegare, c'è anche un movimento fisico da fare, una postura, un tono della voce, una mimica per trasmettere ciò che è vita, che non è una parola come le altre, che non è una parola informativa ma performativa, che compie quello che dice nel cuore, che crede, che dà il suo Amen a quella parola. Noi deridiamo a volte i protestanti che nei loro assemblee di preghiera dicono Amen, ma abbiamo perso, ma perdiamo sempre un'opportunità, perché la nostra vita dovrebbe essere questo canto permanente. Aprendo la bocca, cominciando da quella scrittura, dal canto del servo sofferente, che mentre viene straziato intercede per i colpevoli, per le cui piaghe siamo stati guariti, che è stato reciso dalla terra, ma vedrà un'ampia posterità, lo evangelizzò, gli annunciò il lieto annuncio, il Vangelo, che è Cristo, dice Luca. Quindi c'è stata l'estasi, cioè la fascinazione di bellezza, perché nessuno di noi si muove se non è rapito dalla bellezza, nessuno di noi si muove per imposizione di un obbligo, di un comando. Ciò che muove il nostro cuore, che lo fa vibrare, è la bellezza e quindi c'è un'estasi. Per accostarci veramente ad un cammino di vita nuova è necessario prima lasciarsi sedurre dalla bellezza. Per poter essere familiari della parola di Dio dobbiamo sentirne il fascino seduttivo di questa parola. L'estasi attiva l'esodo, il movimento, sono parole che hanno la preposizione ex, ecstasis, non la droga, ma appunto quel movimento che dice che io non basto a me stessa, che basta la stasi dell'autoripiegamento su di sé, dell'autocontemplazione della mia presunta perfezione. No, c'è qualcosa che mi fa trasalire, mi fa uscire dalla stasi e mi mette in cammino, exodus, mi fa intraprendere un viaggio, un santo viaggio. Ma queste due tappe se ne deve aggiungere una terza, exegesis, comprensione, rileggere la propria esistenza alla luce di quella fascinazione di bellezza per poter andare verso una meta e non deragliare nel proprio camminare. E quindi la comprensione accade non da soli, come abbiamo ascoltato bene prima da Gregorio Magno, accade nella comunione, nella condivisione, nello stare insieme con la comunità o con un maestro, meglio ancora un padre, una madre nello spirito, che sia una persona conoscitrice della via della vita, afferrata dallo spirito di Dio. Un'ermeneuta che offra la chiave di lettura per comprendere, illuminare la propria esistenza. Filippo si offre come padre e svela a quell'etiope il senso della scrittura. Parte da quel canto del servo sofferente e permette all'etiope di essere letto dalla scrittura. E la notte di quell'etiope diventa piena di luce e viene rigenerato. Poi, nell'acqua. Questo percorso che Luca fa fare attraverso la parola di Gesù è un percorso che non termina con la parola. Dalla prima mensa si passa alla seconda. Gesù continua un po' nella sua fiction, continua a essere tattico. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, siamo quasi arrivati a Emmaus e gli fece come se dovesse andare più lontano. Fa finta di doversene andare. Ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera e il giorno ormai al tramonto. Che sia una pratica di ospitalità. Cioè Gesù accende in loro non solo il desiderio di conoscere, di capire, ma accende in loro che cosa? Il senso dell'ospitalità, dell'accoglienza. Ma possiamo leggere questa espressione ancora con una coloritura ancora più struggente. Resta con noi perché il buio della sera ci fa paura. Perché il buio della prova ci fa paura, ci ha fatto paura. Siamo terrorizzati dal buio, dalla notte, da Zalmavet, la valle dell'ombra della morte. Egli entrò per rimanere con loro. Resta con noi, rimani con noi. Entrò per rimanere con noi. L'umiltà del nostro Dio che accoglie il nostro grido, lo assume, lo prende su di sé. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ecco, quegli occhi impediti adesso si aprono. La comprensione della parola, il gesto dello spezzare il pane, l'eucarestia, parola e eucarestia. E il Cristo è presente e non se ne andrà mai più dalla storia. Non lo vedono, ma c'è. E sanno che c'è. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture. Si fermarono tristi, depressi, sul depressivo andante e adesso il cuore arde. Ce l'aveva detto Geremia quando aveva pensato di fare il prepensionamento, un pensionamento anticipato, no? Non parlerò più in suo nome, lasciamo perdere. Ma dentro di me c'era un fuoco ardente, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo, no? Nel brano, nel capitolo 20 delle confessioni cosiddette di Geremia. Partirono senza indugio, si fermarono, partirono senza indugio. È un capovolgimento che abbiamo qui. Questo racconto di riconoscimento ha presentato all'inizio il dramma, poi la complicazione, il terzo personaggio, poi la risoluzione perché adesso l'hanno riconosciuto e adesso il capovolgimento dalla lentezza, la velocità. Senza indugio fecero ritorno a Gerusalemme, il luogo dal quale erano partiti, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro. Tornano a riconnettersi al corpo comunitario perché il corpo di Cristo è la parola, il corpo di Cristo è l'Eucarestia, il corpo di Cristo è la comunità e anche qui abbiamo tanti peccati, abbiamo ridotto il corpo di Cristo all'Eucarestia e basta. E il caro Girolamo che dice quando cade un pezzettino di Eucarestia tutti siamo scandalizzati per quel pezzettino di Eucarestia che è andata, di ostia consacrata che è andato perduto. E quando cade in vano la parola di Dio e quando cade un fratello o una sorella? Il Signore ci salve da questa ipocrisia. Dal fermarsi tristi al partire senza indugio, dal dubbio e vivo forse alla confessione del credo. Agli undici e agli altri che erano riuniti, versetto 34, dicevano davvero il Signore Risorto. Ecco qua, qua c'è l'amen al credo, il Kerigma ha preso anima, il Kerigma è dinamico. Quindi dal dubbio alla confessione del credo, dal cuore lento al cuore che brucia, che è dinamico appunto, che torna alla comunità, torna alla comunione. Ed ecco cosa il Risorto ha consegnato a questi due? Li ha riportati nella loro terra, li ha riportati appunto nel corpo comunitario, li ha riconsegnato, ha riconsegnato loro la vocazione, la loro vocazione di discepoli missionari. Perché il missionario non può esserlo senza essere, rimanere discepolo, come ci ha insegnato Papa Francesco nell'Evangelio Gaudium. E allora cosa possiamo tirare fuori da questa parola per noi? Una verità, un invito, una promessa, una verità. Il Signore è vivo e ogni volta che noi proclamiamo il Kerigma, comunichiamo la vita. Se a questo Kerigma diamo il nostro assenso, diamo il nostro amen. Dio è vivo e l'annuncio della vita che lui possiede in abbondanza e ci dona in abbondanza. È un annuncio che vivifica gli altri. L'invito è credere alla parola profetica, immergerci nella parola profetica, dinamizzare la nostra comprensione della parola, cioè credere che la parola di Dio non è come una parola qualunque, informativa, dicevamo prima, ma davvero che compie quello che dice e lo compie davvero nella nostra vita se noi ci crediamo. E ci fa sperimentare la beatitudine di quelli che ascoltano la parola di Dio, la mettono in pratica. È la promessa, l'amicizia con Dio, la comunione con questo compagno, companis, colui che spezza il pane con noi. È la comunione con gli altri. Siamo fatti per vivere tesi tra due amori. a Dio e ai fratelli e alle sorelle. Una tensione che non è, potremmo dire, una lotta, ma la tensione bella delle corde di uno strumento musicale. Quando suoniamo una chitarra, una cetra, le corde devono essere tese. Quella giusta tensione che permette alla musica di librarsi nell'aria. Questa tensione che è armonia. È un'armonia che ci permette di sentire che veramente la nostra vita è fatta per l'alleanza. L'alleanza col Signore della storia che è vivo e ci vuole vivi e con i nostri fratelli e le nostre sorelle che insieme a noi costituiscono, formano il corpo di Cristo e formano quella chiesa che non è fatta di pietre senza anima, ma di pietre vive, costituite sulla pietra angolare che è Cristo. Questa chiesa che non era popolo, non sarebbe popolo a motivo dei nostri limiti, delle nostre fragilità, ma per grazia di questo Signore che ha l'umiltà di farsi nostro perenne compagno di viaggio, che ha l'umiltà di non far cadere mai il suo amore per noi. È una chiesa che è rigenerata continuamente dalla misericordia di Cristo, che passa dalla parola, dall'eucaristia, dalla parola e dai sacramenti. Buon cammino a tutti e che possiamo veramente rigustare questo Kerigma della morte e risurrezione di Cristo, dare il nostro Amen e far passare anche tutte le Pasque della nostra vita, le prove della nostra vita attraverso questa Pasqua di Cristo, perché possiamo sentire tutti i germogli che Cristo fa sbocciare nella vita nostra e nelle vite dei nostri fratelli, delle nostre comunità, delle nostre diocesi. Auguri a tutti e a tutte. Grazie a tutti.